Siamo in compagnia di Lorenzo Galmarini, un giovane d'esperienza, si potrebbe dire, a Firenze, il ritorno a Firenze, finalmente stasera è andata bene. Sì, finalmente siamo riusciti a trovare la prima vittoria, poi in casa che ci voleva, dovevamo anche al nostro gruppo di tifosi di Ultra, il gruppo Vampero. Almeno adesso ci siamo sbloccati, siamo riusciti a fare i primi due punti della stagione e ora vediamo cosa riusciamo a fare. Personalmente la tua stagione sta andando nelle aspettative, sopra le aspettative, qual è la tua percezione finora? Allora, secondo me sta andando abbastanza sulle aspettative, sapevo che non sarebbe stata facile anche perché non ero abituato, non avevo mai giocato questo campionato, quindi non ero abituato a giocare, a prendermi responsabilità. Le prime partite sono andate male e questo non aiuta la fiducia e riuscire a giocare bene e adesso vedremo. Per ora sta andando bene. Grazie. Grazie.